con l'ungolo c'era protezione e quindi l'idea di Simeone proprio di guardare con probabilmente poi andando in velocità era un'idea interessante però doveva secondo me dialogare con il compagno di pesca ho sentito un po' la frustrazione per questo l'uomo è arrivata a 6 partite da un mese e mezzo e lui aveva fatto una grande, prima parte di stagione 713U a partire con la santa a partire con la santa